Presidente, la notizia è questa, il Pescara è più che mai vivo? Il Pescara è un po' la storia di questa stagione. Abbiamo fatto partite bellissime, poi abbiamo fatto altre disastrose. È un po' il film di questa stagione nel Pescara. Per fortuna, questa sera abbiamo tirato fuori, soprattutto nel secondo tempo, una grande prestazione. Però ancora non facciamo nulla. Dopo il gol di Kwan, dopo il vantaggio del Perugia, se le avessero detto che la partita fosse finita sul risultato di 2-1 per il Pescara, avrebbe firmato per questo punteggio? Giochi una partita che è tutto sommato equilibrata. Prendi gol come il Perugia, una squadra forte, ti aspetti che comunque loro cerchino di mantenere il risultato e tu farai sicuramente fatica a fare gol. Quindi oggi, adesso dire avrei firmato o non avrei firmato, le partite durano 95 minuti. Quindi bisogna, quello che dico sempre, essere sempre sul pezzo fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto e magari puoi fare gol o cambiare una stagione. C'è stato un clima di battaglia sportiva questa sera in occasione di Pescara-Perugia. Sarà così anche nel match del Curi. Molta attenzione in campo, sulle panchine. Come è anche prevedibile? Come fa a non esserci tensione tra due società che sono partite sicuramente con altri obiettivi e che si trovano ad un passo dalla fossa. Quindi è evidente che ci sia tensione, ci sia tensione in campo, tra i ragazzi. Perché non pensate che i giocatori poi si lasciano scivolare tutto addosso. Sono sicuramente ragazzi ma anche loro hanno da perdere. Quindi è giusto che ci sia tensione, è giusto che ci sia impegno, è giusto che ci sia agonismo in campo, sempre nel rispetto delle regole però. A proposito di tensione, nel primo tempo tutti hanno visto dalla tribuna, da casa, dalle televisioni, dai telefonini il tocco con la mano di Ghiomber in area di rigore del Perugia. Sembrava rigore netto e invece prima l'arbitro e poi il VAR hanno lasciato correre. In quel momento cosa ha pensato il presidente del Pescara? Ho pensato che nell'ultimo mese, un mese e mezzo, col Perugia non siamo fortunati dal punto di vista arbitrale. Perché la partita che abbiamo giocato in casa precedentemente a questa abbiamo subito uno, forse due gol in fuorigioco e nessuno se ne è accorto. Oggi quel rigore credo sia netto, considerando anche il fatto che c'è il VAR, anche se no a questo punto è inutile che ce lo portiamo. Il VAR, però ci può stare, abbiamo visto anche dei rigori in Champions dati su delle situazioni veramente grottesche. Guardiamo avanti, guardiamo che abbiamo fatto un bel secondo tempo, un grande secondo tempo e abbiamo recuperato una partita importante che per noi era fondamentale. E adesso però non abbiamo fatto nulla, risettiamo, da domani buttiamoci testa e gambe sull'impegno prossimo perché quello poi sarà importante per sancire una cosa o l'altra. A tenere a galla il Pescara c'è anche un giocatore che il 27 giugno scorso ha compiuto 40 anni, Ugo Campagnaro. Ma io su Ugo ho speso parole sempre bellissime, ma non da adesso. Io credo che Ugo se non avesse avuto il problema che ha, credo che oggi a 40 anni giocherebbe ancora in Serie A per quello che c'è in giro. È evidente che però è un giocatore che tu sai che lo tieni, può fare un numero di partite, ma quando c'è si vede e si sente. Hai incrociato Massimo Oddo dopo la partita? L'ho incrociato anche prima perché veramente è una situazione, ma anche col presidente Santo Padre, che siamo molto amici, è una situazione veramente paradossale. Nessuno avrebbe immaginato all'inizio un finale di campionato così e soprattutto anche con il fatto che Massimo è di Pescara, è l'allenatore che ci ha portato in Serie A quattro anni fa. Anche lui credo che stia vivendo un momento particolarmente difficile su questa situazione, però è un professionista e ci sta che succedano queste cose. Nessuno l'avrebbe voluto, nessuno se l'aspettava, ma tant'è. Ma ho detto a qualche tuo collega Pocanzi che questa è una squadra che non può difendersi, non sa difendersi, se ci mettiamo a speculare sui risultati facciamo fatica, ha delle qualità e bisogna lavorare su quelle qualità. Oggi il Pescara ha dimostrato che comunque tra i suoi giocatori ci sono giocatori di grande qualità che possono fare la differenza in qualsiasi momento.